Facciamo parte della formica da tre anni e portiamo il pacco a due famiglie diverse, quindi io vado con una mia amica che si chiama Maria e tu? E io vado con un mio amico che si chiama Antonio. Da portare il pacco, accorgendoci che spesso il nostro magazzino è un po' vuoto, sapevamo dell'iniziativa Dona Cigo, abbiamo detto che bisogna fare in modo che questa cosa sia raccolta da più scuole possibili, per cui ci siamo messi a contattare prima i nostri amici, da questo è nato appunto il rapporto con tanti insegnanti e proprio per questo motivo con la Veronica e con altri amici giovani ci siamo trovati a impostare il lavoro e quest'anno siamo insieme ad altre 18 scuole a fare questa iniziativa. Io nella vita faccio l'insegnante, insegno in una scuola superiore, ho questa responsabilità di guidare Dona Cigo ma è più una responsabilità condivisa con chi insieme a me come davvero ha a cuore la propria famiglia e quindi desidera che possa avere ogni due settimane il pacco con l'igiene alimentare di cui ha bisogno.